Seduta a fiume della Commissione Garanzia e Controllo sul caso dei precari del Comune con la presenza massiccia dei lavoratori e dei sindacati in aula. Il clima è diventato rovente quando il presidente Raffaele Daniele ha dato lettura di una mail dell'assessore Betti Leone e della dirigente Ilda Coluzzi tesa a motivare la loro assenza alla luce della impossibilità di portare ulteriori elementi di novità all'avvertenza. Poi verso le 13 il colpo di scena. Su richiesta della sindacalista CGL Rita Innocenzi il presidente Daniele ha contattato telefonicamente la dirigente Coluzzi riuscendo a convincerla a partecipare ai lavori della Commissione. Dalla Coluzzi tuttavia non sono arrivate speranze per i lavoratori. Il timore resta quello di un'esposizione al danno erariale in caso di rinnovo dei contratti scaduti il 30 settembre scorso. In Commissione tuttavia la dirigente ha lasciato intravedere la possibilità di un piano B, un bando per titoli contenente una corsia preferenziale per i 56 precari che consente attraverso un nuovo rapporto di lavoro di aggirare la forca dei 36 mesi imposta dalla Jobs Act. Solo avviando questo percorso sarà possibile offrire una vera scienza ai lavoratori, traghettandoli magari anche verso la stabilizzazione, ha spiegato la Coluzzi, ribadendo il suo no al rinnovo dei contratti, impossibile a suo dire perfino fino alla fine dell'anno. Certo è che la vicenda dei precari ha provocato uno scollamento fra il Consiglio favorevole al rinnovo e la Giunta a sua volta spaccata, come sottolineato negli interventi da Guido Liris e Giorgio De Matteis e in seno al PD. Allora, chiedono i sindacati, com'è stato possibile il 2 luglio scorso rinnovare i contratti di sei precari con anzianità maggiore a 36 mesi? Il Jobs Act era già a legge, eppure è stato fatto. È evidente che il caso sta prendendo una connotazione sempre più politica. Infatti, sempre ieri, il GOTA del PD, fra gli altri il governatore D'Alfonso, la senatrice Pezzopane e il sindaco Cialente, hanno avuto un incontro teso a superare il momento di frizione.